Allora Capitano aveva una brutta sconfitta, 12 a 4, seconda sconfitta consecutiva, un campionato tutto in salita. Beh sì, è iniziata questa partita molto male, abbiamo fatto un primo tempo veramente penoso, non capisco neanche il perché, perché comunque poi nel secondo tempo abbiamo sistemato un po' il tiro, siamo riusciti a fare una partita discreta, abbiamo fatto 4 gol per parte nel secondo tempo, quindi comunque ce la potevamo giocare se partivamo sin dall'inizio con il piede giusto e con questa determinazione. Purtroppo ci siamo sbilanciati molto nel secondo tempo, essendo 8 gol sotto, quindi alla fine è arrivata questa brutta sconfitta e speriamo di rifarci prossimamente, perché comunque noi giochiamo per divertirci, però giustamente insieme al divertimento ci sarebbe anche qualche bel risultato che dà sicuramente fiducia alla squadra. Chi sarà venuto alla tua squadra oggi? Cosa? Chi salvi nella tua squadra oggi? Ma sicuramente Mineo, che ha fatto una partita esemplare, diciamo tra noi, diciamo tra tutti noi, è stato quello che si è distinto maggiormente. Anche Leonardo? Leonardo che ha fatto una bella doppietta e per poco non è riuscito a fare i 3 gol che ci sarebbero valsi qualche punto in più di bonus. Poi personalmente mi ritengo di aver fatto una partita orrenda, non mi vergogno a dirlo. Poi comunque anche Albanese ha fatto una bella partita, gli altri nella media della squadra è comunque sicuramente stata una media abbastanza bassa, abbastanza distretta, però comunque tutti abbiamo dato sicuramente il cuore e l'anima per cercare di fare il massimo soprattutto nel secondo tempo di questa partita. Per finire il prossimo turno contro l'Olympique d'Amelio, cosa ti aspetti? Vinceranno. Devo dire la verità, non so cosa hanno fatto nelle prime due partite, quindi è sincero che non lo voglio neanche sapere. La prima giornata hanno perso e ora devono ancora giocare. Io sinceramente il risultato della seconda non lo voglio sapere così almeno siamo ottimisti. Se magari vincono 13 a 0 è meglio non saperlo. Ho capito, grazie capitano. Ho saluto a cred!